Bentornati sul canale di questo blog, io sono il Gons e oggi stiamo qua a parlare di La Mosca Film Collection, un'edizione fantastica della Midnight Factory, uscita per la conale la Midnight Classic Blu-ray, con nuovi remaster, insomma una gran figata, ci sono tutti i film della Mosca i tre film della trilogia del Dottor K, il film di Cronenberg e il film successivo La Mosca 2 di Chris Wallace L'esperimento del Dottor K è un film tratto dal libro del 1958 di George Lajlan che ha ispirato questa storia e quando è arrivato in Italia ha subito il cambiamento del titolo per una ragione piuttosto bizzarra Chi ha deciso di cambiare il titolo ha pensato che siccome c'era una forte analogia tra la storia della Mosca con il famoso racconto alla metamorfosi di Kafka ha deciso di stravolgere il titolo e chiamarlo l'esperimento del Dottor K proprio per fare il riferimento alla K di Kafka Idea balsana perché il film in realtà c'entra con una mutazione in insetto ma in realtà il racconto di Kafka parla di tutt'altro In realtà il dottore si chiama André Delambre e la saga dei Delambre si protrarrà per i tre film che fanno parte della famosa trilogia del Dottor K Allora cominciamo dall'esperimento del Dottor K All'interno ci sono anche delle cartoline con i poster originali e questo è il poster dell'epoca The Fly Allora il film comincia in un modo piuttosto brutale per l'epoca Un medico, un dottore perché ha su un camice e viene ritrovato con la testa e un braccio schiacciati da una pressa Verrà accusata inizialmente la moglie di questo dottore, il Dottor André Delambre E poi con un flashback scopriremo come si è arrivati a questa situazione Il dottor Delambre chiaramente stava lavorando su, la strella la conosciamo tutti Stava lavorando sull'esperimento del teletrasporto che lì viene chiamato teletrasbordo All'interno della capsula in cui lui cerca di teletrasportarsi entra una mosca e subisce una mutazione genetica I due DNA si mischiano, a differenza del film di Cronenberg La mosca rimane la mosca ma con del DNA umano e lui rimane umano con del DNA di mosca Per l'esattezza il Dottor Delambre erediterà tra virgolette il braccio e la testa della mosca E la mosca erediterà il braccio e la testa del Dottor Delambre Quindi ci sarà una specie di minestrone di arti Il film è veramente grandioso, stupendo, non l'avevo mai visto Sono molto felice di averlo visto, è molto drammatico I personaggi sono veramente molto belli Soprattutto il personaggio della moglie del Dottor Delambre Che è un personaggio molto forte, stoico Che sorregge, sostiene moralmente e psicologicamente il Dottor Delambre Quando scopre di aver fatto questo pasticcio e di essere fondamentalmente condannato a morte Di per sé il film è veramente drammatico e coinvolgente Non ci saranno, diciamo, la trama Che cazzo vi devo dire? Tra i protagonisti c'è anche il grandissimo Vincent Price Che interpreta il fratello del Dottor Delambre Un elemento collante della famiglia Un grandissimo attore Che sicuramente ha portato prestigio a quest'opera Che rivedremo anche nel seguito La vendetta del Dottor K Allora, per l'epoca, per i pochi mezzi che c'erano Il film potrebbe in certi momenti risultare ridicolo Come per esempio Quando vedremo la mosca piccolina Che parla con una voce piccolina E il braccio e la testa umani Però se riusciamo a farci coinvolgere dalla storia E lasciamo perdere un po' Quelli che possono essere i limiti tecnologici Della messa in scena È veramente una scena molto molto inquietante Soprattutto il finale Quando, non ve lo dico Film strepitoso Capolavoro assoluto E da avere assolutamente La cosa bella di questa collection È che c'è dentro tutto Un anno dopo esce La vendetta del Dottor K La vendetta del Dottor K Il poster dell'epoca Film è uscito un anno dopo Con la regia di Edward Burns Insomma Bisognava battere il ferro finché era caldo Il film precedente L'esperimento del Dottor K Era andato molto bene Qui troviamo una storia Neanche troppo malvagia Dove il figlio Cresciuto ormai Del Dottor Delambre È ossessionato dall'esperimento del padre E vuole assolutamente Portarlo a termine Riuscire a chiudere questa cosa Si fa aiutare dal Economicamente Dallo zio ricco Si aggiungono elementi nuovi Come il Il suo assistente cattivo Che diventa un elemento Fondamentale per la storia Qui Ci sarà di nuovo Una fusione tra uomo e mosca Ma sarà causata appunto Dall'assistente Quindi È un po' diversa la storia È un po' più Action Ci sarà una caccia all'uomo Anzi Una caccia alla mosca Perché effettivamente Cercheranno di Di catturare la mosca Insomma Le forze dell'ordine E tutto questo renderà il film Molto più action E anche Per certi versi È un film anche Un po' più horror Perché ci sono elementi Piuttosto macabri E spaventosi O comunque inquietanti Come l'uccisione Del porcellino d'Inda Che è mutato Geneticamente E ha delle sembianze Veramente mostruose E disturbanti È proprio Un tipo di resa Veramente molto disturbante La mosca in questo film Non so se per renderlo Più spaventoso Insomma Per rendere più spaventoso Il mostro La testa è decisamente Più grande La testa della mosca In questo In questo seguito Io l'ho trovata Però un po' ridicola Soprattutto quando Il personaggio corre L'attore corre La testa è molto grande C'è a chi piace C'è a chi non piace Insomma Lì va un po' a gusti A me l'ho trovata Un po' meno credibile Rispetto all'altro All'altro film In generale È un film Non riuscitissimo Che però Non mi sento di bocciare Totalmente Perché ci sono anche Delle intuizioni E delle cose molto carine Una curiosità Mi sono accorto Fissando Insomma Sono andato in fissa Mentre guardavo il film L'attore che interpreta Appunto Il figlio del Dottor Delambre È Brett Halsey E mi ricordava qualcuno In effetti I lineamenti Lui è praticamente L'attore Che è protagonista Del film Quando Alice ruppa Lo specchio Di Lucio Fulci Nel film di Fulci È molto molto più vecchio Quindi è stato Veramente molto difficile Associarli Però siccome Appunto Mi ricordava qualcuno Sono andato a informarmi E ho scoperto Questa curiosità Insomma Fino a qua Tutto bene Poi Passiamo al terzo film Della trilogia Del Dottor K La maledizione Della mosca Il figlio del Dottor Delambre Nel sequel Si era salvato Lo ritroviamo In questo film Insieme ad altri fratelli Insomma c'è lo zio Insomma la famiglia Delambre È ossessionata Da questa cosa Del teletrasporto Tra l'altro Questo è il primo Di tre film Dove viene chiamato Teletrasporto Prima veniva chiamato Teletrasbordo E quindi il termine Teletrasporto Viene usato Per la prima volta In questo film Dopo sei anni Dall'uscita Della vendetta Del Dottor K Esce La maledizione Della mosca Siamo in un'epoca In cui le trilogie I sequel Finiscono E per fortuna Con questo Si conclude La trilogia È il meno riuscito Dei tre Anzi questo è proprio Deludente come film Anche se qualcosa Di interessante c'è Il film È diretto da Don Sharp In questo caso Non ci sarà Nessuna fusione Con delle mosche La famiglia Dell'Ambra Attuerà degli esperimenti Per teletraspostarsi Da un paese all'altro Gli esperimenti Avranno già successo Ma con delle conseguenze Particolari La sceneggiatura È un po' assurda Perché all'interno C'è anche Un personaggio Di una donna Che ha perso la memoria Che vi esce Da un Insomma Non tanto A posto di testa E tutto si mischia In un calderone Che non ci si capisce Un cazzo C'è Però c'è da dire Che c'è Tutta una parte Dove Vengono Insomma Nascosti Delle persone Che hanno subito Il teletrasporto E che Sono mutate Geneticamente Che vengono tenute Segregate Dai delambre E che Ricordano Un po' Il genere Zombesco Questa parte È un pochino Inquietante Un pochino Interessante A livello di horror Però il film Di per sé È scadente E questo è tutto Per la Trilogia del Dottor K Veniamo Ora al film Più noto Diciamo Per quelli Della nostra generazione Delle generazioni dopo Alla faccia Di tutti quelli Che sono contro Il remake Arriva Il remake Di The Flight La Mosca Diretto da David Cronenberg Siamo nel 1986 Io avevo Dieci anni È un film A cui tengo tantissimo Perché Mi aveva inquietato Molto per le scene Per lo splatter E E all'epoca Comunque ero impressionabile Non sono come i bambini Di oggi Non ero Io ero piuttosto impressionabile Quindi La scena Del braccio Che si spezza Durante Il braccio di ferro Fatta molto bene Fatta molto bene Rivista anche oggi Veramente Spettacolare Mi aveva Fatto Insomma Ossa rotte Non mi sono mai piaciute Le ossa rotte Non mi sono mai piaciute La Mosca Di David Cronenberg E la fantastica Superta Meravigliosa Camera del teletrasporto Della Mosca Poi parliamo Della camera del teletrasporto E del suo design Per fortuna Che David Cronenberg Ha fatto il remake Della Mosca Perché Ne è venuto Un film Eccezionale E soprattutto Lo ha Reinterpretato A modo suo Con il suo stile Con quello che Aveva voglia Di raccontare lui E ne viene fuori Un horror Sci-fi Con influenze Inevitabilmente Body horror Perché Sapete che Cronenberg È un fissato Tanti dei suoi film Trattano questo tema Insomma Il regista di Brood Della zona morta Un regista Veramente cupo Che ha dato Ancora più Tenebre e ombra A una storia drammatica Troviamo Jeff Goldblum E Gina Davis Bravissimi Che Danno una grande Personalità E due personaggi Questo secondo me Ha aiutato tantissimo Il film Jeff Goldblum È perfetto Nei panni Del dottor Brandl Qui È finita La saga Dei delambre E si comincia Con i Brandl Appunto Una nuova Chiamiamola Maledizione Insomma È inutile Che io stia qua A dirvi Quanto è bravo David Cronenberg Quanto il film Sia spettacolare Quanto sia Quello che vi posso dire Che dopo 34 anni Dall'uscita È un film Che si riesce a vedere Veramente Come se fosse È stato girato ieri Soprattutto In questa qualità Con questa edizione E con la qualità Che c'è in questa edizione Della Midnight Si vede benissimo Si sente benissimo Io ho approfittato Per vederlo In lingua originale Non l'avevo mai visto In lingua originale Ve lo consiglio Perché se già Conoscete il film È un valore aggiunto Sentire anche La recitazione In presa diretta Come recitano Gli attori E anche perché Poi le traduzioni Non sono sempre Tutte perfette Quindi capire meglio Quello che dicono Se masticate un po' D'inglese È più fico Insomma Che cazzo d'altro Vi volevo dire Adesso vi dico Allora C'è da dire una cosa Grandissima qualità Degli effetti speciali Della mosca Di come è fatta la mosca Veramente tutto Strapettinatissimo Super bello Come poi accade sempre Nei film di Cronenberry Perché lui Le cose O le fa bene O non le fa Credo di aver capito Quindi Stupendo anche Il design Della capsula Che In questo In questa fantastica edizione In questo disco Tra l'altro Che è molto più ricco Di contenuti extra Rispetto agli altri Poi vengono spiegati Tantissimi elettroscena Uno di questi Veramente molto figo È che L'idea per fare la capsula Vedete questa forma particolare È presa da un cilindro Di una Ducati Cronenberg ha visto Questo Ducati E Insomma I suoi designer Ha detto Fate una cosa Tipo quella lì Tipo Il cilindro della Ducati Quindi c'è anche un po' di Di Italia In questo In questo film L'idea è stata brillante Perché secondo me Le capsule Del teletrasporto Sono veramente I coni Che sono rimaste Impresse Nella testa Delle persone Il design Così in particolare Futuristico È azzeccato Ha dato credibilità Alla macchina Del teletrasporto Che negli altri film Nei film Dell'esperimento Del Dottor K Erano praticamente Solo delle Teche di vetro Quindi insomma Niente di Di molto credibile Insomma Molto bravi anche I designer Della mosca Che hanno fatto I modellini Per creare Il mostro finale Della mosca Vabbè poi Spettacolari le scene Dove gli cade L'orecchio Si decompone Gli cadono i denti Gli cade Qualsiasi roba Molto bravi anche I designer I designer Che hanno fatto I modellini In particolar modo Insomma A occuparsi Di effetti speciali Troviamo Nel team Chris Wallace Che sarà poi Il regista Della mosca 2 Ed eccoci All'ultimo film Del cofanetto Della Midian Factory Che è La mosca 2 Direto da Chris Wallace Spero di pronunciarlo Nel modo corretto Insomma Tecnico degli effetti speciali Nella mosca di Cronenberg Qua si ritrova A dirigere Wallace È sicuramente Un grande esperto Di effetti speciali Perché lo troviamo In lavori come Piragna Gremlins Pasto nudo Di Cronenberg appunto Però Questo film Non è molto riuscito Come per La maledizione Della mosca Ci troviamo di fronte A un passo falso Ma non del tutto Secondo me Il film comincia Con una scena di parto Frenetica In cui troviamo Veronica La fidanzata di Brandl Nel film Con Cronenberg Che era rimasta Incinta nel film precedente Quindi ora sta per partorire Il figlio di Brandl E voi Sapete già Dove stiamo andando a parare Il figlio di Brandl Ha del DNA di Mosca All'interno Veronica muore Dopo il parto E il figlio di Brandl Mosca Viene cresciuto In un laboratorio E studiato È dotato Di una capacità particolare La sua crescita È iperveloce Quindi lui Nel giro Di cinque anni Si ritrova Come Insomma Nel corpo Di un ragazzo adulto Di un ragazzo Di vent'anni circa E anche la sua mente È iper sviluppata Infatti lui È molto intelligente E Il Diciamo Cattivo di turno Logo Il proprietario Di queste industrie Di questi laboratori Che lo tengono segregato Decide di liberarlo Ma Non Realmente Perché lo trarrà Sempre sotto controllo Vuole sfruttarlo Per i suoi esperimenti E soprattutto Sa che Prima o poi Brandl Si trasformerà In una mosca Perché A quanto pare I cromosomi Della mosca Sono dormienti Per un po' Ma Solo fino Alla maturità Di Brandl Appunto Martin Brandl Martin Brandl È interpretato Da Eric Stoltz Un attore Piuttosto noto Che abbiamo visto In tantissimi film E famoso Soprattutto per Una vicenda Molto particolare Eric Stoltz Qualche anno prima Era stato scelto Per interpretare Marty McFly In Ritorno al Futuro La decisione Era ormai presa Infatti Stoltz Ha girato Per quattro mesi Diverse scene Del film Di Ritorno al Futuro E queste scene Si possono anche Trovare online Se volete E fa molta impressione Vedere come Le scene Che noi conosciamo Dove vediamo Michael J. Fox Interpretare Marty McFly Vederle Con un altro personaggio Con dei vestiti Più o meno simili E' abbastanza impressionante Robert Zemekis Non era convinto Dall'interpretazione Di Eric Stoltz Ma non perché Non fosse bravo Ma perché Era troppo drammatica Voleva qualcosa Di più allegro Di più divertente E Michael J. Fox In realtà Sarebbe stata La prima scelta Ma era occupato A girare Casa Keaton Riuscirono In qualche modo A svincolarlo Da Casa Keaton E quindi Stoltz Dopo quattro mesi Di lavoro Si vide Praticamente Si vide Si ritrovò Licenziato Dal film Uno dei film Più famosi Della storia del cinema Che ha fatto più soldi In assoluto E che E' molto iconico Stoltz ha avuto Comunque una grande carriera Ma è davvero curiosa Questa cosa Perché Il film Insomma Lui si è ritrovato Da interpretare Un personaggio Che si chiamava Martin McFly Cioè Martin McMosca Dopo qualche anno Si ritrova a interpretare Martin La Mosca The Fly Martin The Fly Non so se questa è Una casualità O una strezzata d'occhio Di Stoltz E il regista Della Mosca 2 Nei confronti Di Ritorno al Futuro A parte Stoltz Gli altri attori Non sono un granché Troviamo anche Daphne Zuniga Una delle gnocche Di Marrow's Place Conosciuta però Soprattutto per La principessa Vespa In balle spaziali Quindi il film Non è un granché La storia Però non era Insomma La storia non era così Malvagia Perché Il fatto di seguire Lo sviluppo Del figlio Di Brendol L'ho trovato Una cosa interessante Anche la sua Ipercrescita Che ricorda molto Il processo Insomma Di sviluppo Degli animali Che è molto più veloce Del nostro Quindi c'erano Delle logiche E degli spunti Molto interessanti Il film ha anche Degli effetti speciali Molto belli Ovviamente Perché Il regista Viene da lì Quindi tutto è molto curato Inspiegabile Incredibile Come invece Proprio Il modellino Della Mosca Sia veramente Brutto E provochi Veramente un cringe Incredibile Veramente imbarazzante È bruttissimo E incomprensibile È comunque un film Che non butto via Totalmente La Mosca 2 È un film Comunque che Per la sua Buona dosi di splatter E tutta una serie Di vicende Che accadono Quindi è un film Dove accadono molte cose Riesce comunque Più o meno A intrattenere Anche se Veramente A livello di scrittura E di regia Ci sono Un bel po' Di scelte Scellerate Devo dire che Questa collection Così com'è Così è E così deve rimanere È una collection Perfetta Perché dentro c'è tutto I capolavori E gli errori Per chi ama Questa saga E questo genere È una grandissima collection Dentro a ogni disco Dei film Ci sono degli extra E poi C'è un Disco Di extra Io ho visto Quasi Ho visto tutti gli extra Dei film Ma non ho ancora Visto il Ecco infatti Vedete Non mento Ed entro Al lettore Non ho ancora finito Di vedere tutti gli extra Del CD Degli extra Perché sono troppi Se io Dovessi aspettare Di vedere anche Tutti gli extra Non farei mai Queste recensioni Quindi Alla fine ho deciso Che dopo aver visto Un po' di extra E aver rivisto Tutti i film E visto quelli Che non avevo visto 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 Non vi sto a leggere Che è pieno Di contenuti speciali Che Sono veramente Tantissimi E Sono veramente Fichissimi Cioè Scopri un sacco Di cose E soprattutto Chi vuole fare Regista O Insomma Vuole provare A fare Regista Io consiglio Tantissimo Di vedere Sia gli extra Sia I film commentati Da regista O da altri personaggi Perché nei commenti Alcuni sono molto bravi A proprio A raccontare Il work in progress E le scelte fatte E questo è molto istruttivo È quasi come Come andare a scuola di cinema Questo è tutto Per la recensione Della De La Mosca Film Collection Di Mindana Factory Per la colonna Mindana Classic È meraviglioso Vi lascio il link In descrizione Per acquistarlo su Amazon Mi raccomando E niente Se il video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Cliccate sulla campanella Per ricevere le notifiche E ci vediamo Al prossimo video